ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad autopolis ragazzi oggi vado a fare un video che non avrei voluto fare mai ovvero un video in cui ne parlerò di un decesso di una persona di un pilota una cosa che è molto ma molto dura e molto ma molto brutta oggi ci ha lasciato a zoan hubert ragazzi piloto tester della renault di formula 1 che partecipava al alla piccola ai piccoli piloti che al vivaio piloti della renault formula 1 oggi ci ha lasciato questo ragazzo e non solo che ci ha lasciato questo ragazzo se no che abbiamo visto in questo incidente che purtroppo ha avuto coinvolto anche manuel correa che manuel anche lui non sta molto bene a fratture ad entrambi le gambe una botta molto ma molto brutta molto ma molto davvero ragazzi una botta bruttissima che purtroppo ha stato anche in un angolo che peggio di così non si può un urto laterale ovvero dove la parte dove la macchina ne ha meno struttura che è capace di assorbire l'impatto in questo incidente ci sono stati coinvolte altre due vetture la prima che quella che probabilmente ha generato tutta questa carambola quella di alessi che perde il controllo su e au rouge buon e dopo di che c'era la vettura di sato alessi e sato non hanno avuto nessun problema stanno entrambi bene almeno alessi lo posso dire sato si è visto più tardi camminare nel paddock sembra che non abbia nulla di importante a questo punto ragazzi io mi sono messo a vedere tantissimi di questi videoclip per cercare di detrarre una conclusione cosa accaduto cosa accaduto ragazzi questa è una cosa molto importante capire non c'è nulla di peggio nella vita che quando accade qualche disgrazia un familiare o una persona che uno vuole bene di non riuscire a capire perché o come o se si poteva fare qualcosa io ogni volta che vedo che c'è una fatalità nel motorsport cerco di capire se si poteva fare qualcosa di meglio non è che la fia non faccia questo infatti lo fa e lo ha fatto molto dal 94 in poi ha cambiato molto molte misure sono state messe in ordine di migliorare la sicurezza e la fia ci ha riuscito e ci ha riuscito molto bene ma purtroppo certe volte rimangono dei vuoti uno di questi vuoti io mi riesco a ricordare è questo delle gru sul tracciato vi ricordate quello che l'incidente di gius bianchi beh ragazzi io mi ricordo di aver visto delle gru nel tracciato in un tracciato di formula 1 in bensì tre occasioni prima di quelle la ovvero due occasioni la prima era nel gran premio l'interlagos del 2003 con michael schumacher che va fuori e qua si sbatte con la gru la seconda occasione era nel gran premio della germania al nürburgring mi sembra che sia stato nel 2007 quando un altro pilota qua si sbatte con una gru mi sembra che era hamilton ma non ricordo molto bene quello che cerco da dire è che sempre ci si cerca di migliorare ma certe volte ci si rimangono questi vuoti oggi vi vado a dire due cose che magari per me si potevano fare un po meglio e magari non voglio dire che questo l'avrebbe evitato ma sicuramente quasi sicuramente avrebbe aiutato molto ci sono stati in questo incidente io io vedo due cose che da un punto di vista della sicurezza non sono state bene la prima sono le barriere se voi vedete come stanno fatte queste barriere ad eau rouge e a radiglion vi renderete conto che le barriere non hanno uno spazio tra loro ovvero se voi vedete le barriere cercherò di lasciarvi un'illustrazione ma se voi vedete delle barriere che si fanno un po più moderne c'è uno spazio tra di loro tra due due file dei neumatici che rimane vuota la intenzione di lasciare quello in quella parte vuota e di quella di far assorbire l'impatto in caso d'urto e che le macchine non rimbalzino ovvero che non diventino come un pallone in questo caso voi avete visto che dopo l'impatto la macchina rimbalza su questo rimbalzo correa urta la macchina in maniera laterale la macchina di questo povero ragazzo che alla fine ha morto quindi questa sarebbe la prima cosa che io ho visto che mi ha colpito l'occhio la seconda che mi ha colpito l'occhio oltre a questo delle barriere e le vie di fuga allora le vie di fuga nella formula 1 e in un tracciato come questo qua per me non devono di essere asfaltate se tu fai un errore in una curva come questa meglio avere ghiaia con la ghiaia ti fermi senza la ghiaia con l'asfalto i piloti cercano di fare quello che fanno meglio ovvero cercare di detrarre un vantaggio in un momento di caos prima che scattino le bandiere gialle dico questo perché se qui ci sarebbe stato la ghiaia non dico 100 per cento sicuro ma almeno ragazzi 50 per cento sicuro che la macchina non avrebbe ribalsato e avrebbe ritornato quasi al tracciato o avrebbe rimasto in una zona che era molto vicino alla via di fuga quello che è accaduto oggi è che la macchina è andata fuori è ribalsata e come c'è qui su questo rimbalzo la macchina ha rimasto nella via la via di fuga che ad oggi è asfaltata quello che ha cercato di fare correa e di approfittarne di questo caos e sembrerebbe che quello che ha cercato di fare e fare un paio di sorpassi quello che lui non ha visto e la la macchina di havert che rimbalzava e ritornava sul tracciato quindi più o meno io credo che l'impatto correa abbia urtato a havert più o meno a una a una velocità superiore ai 200 chilometri orari quindi datevi un'idea ragazzi non posso confirmare questo e quasi sicuro non lo potremo fare mai perché io ho moltissimi dubbi che la fia rilasci queste informazioni generalmente non lo fa mai ma io aspetto che per la prossima abbiano in considerazione magari questi piccoli suggerimenti o magari queste cose che io ho visto che possono credo io di fare un cambiamento ragazzi questa è la realtà un impatto laterale è il peggior impatto che possa esistere non c'è non c'è alo che riesca a proteggerti non c'è nulla di niente quello che magari ti può aiutare e avere delle macchine che siano più larghe e macchine che siano più lunghe queste formula 1 che abbiamo oggi sono delle macchine che sono larghe e lunghi e lunghe questo qua significa più struttura d'assorbimento in caso di impatti le formula 1 sono fatte in una maniera in cui si difformano in una maniera abbastanza programmata hanno delle strutture che sono rigidissime ma che comunque si difformano in una maniera molto ma molto programmata ma molto a modo di che il pilota non si faccia del male no beh ragazzi allora vi vado a dare un esempio le prove che voi vedete oggi dell'euro encap in caso di urto frontale si fanno a 62 64 km orari quelle l'impatto di urto laterale come quello che abbiamo visto oggi si fanno a 32 km orari non più di 30 quindi ragazzi vi ho detto tutto mi sembra è molto difficile un impatto laterale semplicemente ragazzi non c'è non c'è spazio per assorbire la l'energia non c'è letteralmente non c'è quindi purtroppo queste questa tragedia è capitata si avrebbe potuto evitare io questo non lo so non ne sono cento per cento sicuro ma io credo che magari i risultati avendo delle vie di fughe che erano in ghiaia dove un pilota non può ritornare velocemente al tracciato e quasi sicuro avrebbe rimasto rimasto là bloccato avrebbe cambiato un pochino di nuovo è impossibile prevedere prevedere il futuro non sappiamo mai cosa potrà capitare ma bene aspettiamo che per il futuro la fia abbia imparato qualcosa di questo incidente perché sicuramente ci sarà qualche piccolo dettaglio qualcosa da imparare io come ho detto ho visto queste due cose ma sicuramente ci saranno delle altre beh ragazzi come ho detto questo è un video bruttissimo a me non mi piace non è tranco piacere in fare un video così mi sembra davvero mi sembra molto brutto ma qualsiasi di voi che conosca il motorsport o che abbia avuto un amico che faccia kart o faccia magari dei rally capirà che i rischi sono abbastanza grandi abbastanza considerevoli ad oggi si è ridotto molto ma comunque ragazzi ci sono questi rischi rally e karting sono delle due attività motoristiche che hanno più mortalità quindi va bene come ho detto ragazzi questo è un parere personale in base a tutto quello che ho visto ma anzitutto perché io sono una persona che tiene molto la sicurezza e queste cose davvero uno deve cercare sempre di vedere se si poteva fare del meglio non è bello magari ma alla fine è quello che dobbiamo cercare di fare dobbiamo cercare di migliorarci ogni volta di più bene ragazzi tutto qua vi ringrazio per vedere questo video vi saluto e niente riposo in pace anto an cubert e aspettiamo bene per correa ciao ciao ragazzi saluti a tutti grazie a tutti